ok sono all'osservatorio griffith e come potete vedere si vede la scritta hollywood e qua c'è la vista di tutta la città lì c'è il downtown che si vede tutti i grattacieli e qua vista spettacolare città molto piatta e qua tutte le colline di hollywood con tutte le mega villone pazzesche e questo è l'osservatorio siamo al tcl chinese che è un cinema più hollywood abbiamo preso i biglietti per space channel 2 che lo guarderemo qui dopo un anno e mezzo finalmente siamo tornati al cinema che poi in realtà questa è stata la nostra prima volta al cinema assieme e anche la prima volta che vado al cinema all'estero in vita mia adesso sono le 6 6 10 e ora di cena stasera il menù dice in e out si mangia si mangia tutti per me stasera il menù ciò è Não Efra